Ciao ragazzi, benvenuti o ben ritrovati nel canale del Marchese del Cripto. Fermi lì, non vi muovete perché oggi abbiamo una marea di notizie importanti ed influenti. Iniziamo da Silvergate per capire quello che sta succedendo e quali exchange o quali criptovalute potrebbero essere coinvolte. Poi parleremo anche di Ethereum, poi parleremo della nuova possibile Shiba Inu, andiamo a scoprire anche questa criptovaluta e poi ragazzi andremo a vedere altre notizie minori che possono essere interessanti, ma io direi di iniziare subito con il grafico di Bitcoin. Quest'oggi non vedremo ADA e CRO perché sennò altrimenti il video sarebbe troppo lungo. 22.370 dollari, questo è il grafico 4 ore, c'è questa trendline che come vedete è una trendline ascendente che è stata toccata in maniera quasi abbastanza precisa da Bitcoin per poi vedere il prezzo rimbalzare. Ora il vero problema è che ci troviamo imbottigliati in tutta una fascia di resistenze proprio dove siamo ora perché c'è tutta una fascia che varia da questi 22.368 fino ad arrivare ai 23.000 dollari circa, fino ad arrivare qui. Ecco, questa è tutta una zona che in pratica ci potrebbe fare da resistenza. Ora però adesso il vero problema è che c'è stato questo drop a causa di eventi che adesso andremo a vedere. Quindi infatti se passiamo adesso al grafico daily, abbiamo anche qui una bella panoramica infatti che ci fa vedere lo stato di Bitcoin come abbia toccato e potrebbe naturalmente rimbalzare. Però le notizie non sono positive. Questo invece ragazzi è il grafico settimanale che come vediamo in questo momento ancora non ha modificato nulla, quindi nulla è perso, non è successo assolutamente nulla. Certo sarebbe importante chiudere la candela settimanale con dei minimi più alti rispetto a quest'ultimi, rispetto a questi dei 21.500 dollari di 3 o 4 settimane fa. Quindi questo sarebbe davvero importante per vedere magari una piccola ripresa da parte di Bitcoin. E ragazzi il tutto è nato da questo problema. Le azioni di Silvergate sono crollate del 31% dopo che hanno ritardato il deposito di un documento chiamato 10K. Questo documento innanzitutto che cos'è? Questo documento è un documento che va presentato alla SEC, in pratica che dimostra le condizioni economiche e finanziarie di una società che ti dà una panoramica diciamo. Ma non è stato solo del semplice FUD perché hanno fatto un ritardo, perché hanno avuto dei ritardi, ma semplicemente proprio come ha detto la stessa Silvergate, questo ritardo è dovuto al fatto che hanno venduto ulteriori titoli di debito a gennaio e febbraio e quindi si prevede di registrare ulteriori perdite nei prossimi mesi. Quindi queste perdite avranno un impatto negativo sui coefficienti regolamentari della società e della sua consociata Silvergate Bank, la banca. È come se fossero due aziende insieme, Silvergate e Silvergate Bank. E potrebbero portare sia la Silvergate che la Silvergate Bank a essere meno che ben capitalizzate. Quindi non sono affatto buone notizie. Ma questo come influisce sulle nostre criptovalute? Ragazzi, semplicemente che questa Silvergate in pratica è il collante fra il mondo tradizionale della finanza tradizionale e il mondo delle criptovalute per quanto riguarda gli istituzionali. Gestiscono una marea di soldi, così come dice anche Adam Cochran, che lui è un analista, un investitore, gestore di WC, dice che la spirale di morte su Silvergate potrebbe davvero essere dannosa per tutto il settore delle criptovalute e che gli investitori retail probabilmente non se ne rendono ancora conto di quanti soldi girano attorno a questa situazione e soprattutto quanti crypto exchange hanno dei rapporti bancari con loro. Quindi ragazzi non c'è da scherzare perché potrebbe essere un vero e proprio cigno nero che potrebbe coinvolgere diversi exchange e diverse criptovalute. Molti exchange si sono allontanati da questa situazione come ad esempio Crypto.com in questo caso che ha sospeso i depositi e i prelievi attraverso la Silvergate Bank perché anche loro avevano dei rapporti con loro ma non solo loro, anche Circle di USDC per esempio, anche Coinbase, anche Paxos. Insomma ragazzi tutti questi nomi, vedete Coinbase, Galaxy Digital, Bitstamp, insomma hanno rilasciato dichiarazioni nelle quali affermavano che si sono ritirati dai rapporti con Silvergate o che se un altro li hanno ridotti. Però non sappiamo effettivamente quante esposizioni abbiano. Se riescano a rientrare in possesso dei propri fondi quello che realmente sta capitando ancora non lo sappiamo. Tutto questo ragazzi purtroppo sta avvenendo sempre per il solito problema legato a FTX. Come vi dissi tanto tempo fa che questo effetto domino era appena iniziato e infatti continuano a verificarsi questi problemi dovuti allo scandalo FTX e Alamida Research. Ora magari se avete qualche notizia in più scrivetela qua sotto io ad ogni modo vi terrò aggiornati con le mie notizie quindi quando saprò un qualcosa di più quando avremo notizie ancora più certe vi fornirò tutte le informazioni necessarie. Potete anche entrare nel gruppo Telegram magari per cose brevi e veloci le posterò anche direttamente lì. trovate tutto in descrizione. Passiamo invece adesso ad Ethereum ma questa notizia che è passata in sordina ma ragazzi è davvero importante. È stato dato più risalto probabilmente alla notizia che è stato posticipato il prossimo hard fork su Ethereum da marzo verso le prime settimane di aprile cosa ragazzi nulla di eccezionale ma invece questa è una notizia fantastica in pratica è stato introdotto un nuovo standard chiamato ERC 4337 a seguito di un'implementazione chiamata EEP 4337 in pratica è stata introdotta l'astrazione dell'account ma che cosa significa? Ragazzi sapete che io parlo pane al pane e vino al vino? In pratica è possibile creare dei wallet che abbiano uno smart contract all'interno delle funzioni all'interno e quindi funzionino esattamente come contratti intelligenti programmabili facciamo un esempio subito può essere inserito un pagamento ricorrente direttamente dal proprio wallet effettuando insomma quindi questa programmazione quindi potete stabilire che ogni mese dovete inviare degli Ethereum a tizio oppure a caio un'altra implementazione importantissima che porta questo standard è quello che è possibile sarà possibile recuperare le chiavi private perse questo perché in pratica è come unire dei checks alla finanza decentralizzata al mondo decentralizzato quindi sarà possibile ad esempio tramite smartphone poter accedere al proprio wallet non solo tramite seed phrase ma anche ad esempio tramite impronta digitale quindi questo è un passo avanti eccezionale per una adozione di massa sembra una cosa davvero stupida ma invece ragazzi è una cosa davvero figa ed è passata inosservata benché in ogni caso Ethereum abbia perso il 4,8% sappiamo bene quello che è successo che sono tutti correlati direttamente a Bitcoin ed è passata inosservata ma probabilmente per un'adozione mainstream questo è quello che ci vuole poi prima di continuare volevo informarvi che dall'8 all'11 maggio ci sarà il Blockchain Week a Roma se volete partecipare potete acquistare i biglietti con il referral link qui sotto che avete un 10% di sconto in pratica saranno diversi panel, diversi speech dall'8 all'11 c'è anche il discorso del corso quindi chi vuole proprio effettuare un corso sulle blockchain altrimenti il 10 e l'11 ci sarà il Summit dove sarò presente anch'io ed altri colleghi di YouTube quindi se volete partecipare per conoscere me per il Summit e tutto potete farlo e avere questo sconto solitamente vengono rilasciati anche degli NFT dei token, insomma sono una marea di sponsor all'interno e vi assicuro che molte persone anche pagando il prezzo del biglietto sono riuscite addirittura a guadagnarci semplicemente rivendendo questi NFT presi in modo gratuito ora non so se sarà così anche per questa edizione ora spero che non sia questa la motivazione principale che vi spinga a venire a questo blockchain week ad ogni modo se volete come detto in descrizione questo sconto ora velocemente su Cardano e FETAI sono aumentate le transazioni da parte di Whale quindi notizia insomma potrebbe essere positiva per entrambe Cardano semplicemente perché ha implementato tutto il lato DeFi quindi insomma sta crescendo a livello di ecosistema ma per quanto riguarda FETAI invece sono aumentati i volumi di transazione in virtù del fatto che stanno seguendo il trend della intelligenza artificiale e adesso passiamo a parlare della nuova Shiba Inu e se non fosse la nuova Shiba Inu ad ogni modo è strettamente correlata ad essa perché? Perché stiamo parlando di POSWAP che cos'è questo token? questo token in pratica è il token del primo exchange DeFi decentralizzato del primo AMM in pratica che verrà realizzato sulla blockchain di Shiba Inu su Shibarium è uscito pochi giorni fa già avuto un incremento di prezzo allucinante però se vediamo in rapporto la market cap completamente diluita è di 86 milioni di dollari che la diluita è completamente differente da quella che c'è attualmente in circolazione da quella attuale ma purtroppo non abbiamo i dati quel market cap non me ne fornisce questo è l'andamento di prezzo e quindi qui naturalmente ragazzi se volete giocare potete fare come volete naturalmente sappiate che naturalmente è ad alto rischio questo è il sito internet quindi i vari cagnolini insomma di Shiba Inu e tutto questi erano fatti con l'intelligenza artificiale non ci sono tasse eccetera 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 ad ogni modo questo Dex ancora non è attivo quindi è solamente attivo il discorso della speculazione c'è tutta la roadmap che prevede che verrà lanciato pubblicamente nel quarto quarter 2023 se non il primo quarter del 2024 quindi qua è tutta è solo speculazione ragazzi è una meme coin fondamentalmente come un po' tutto l'ecosistema poi vediamo insomma come si rivelerà e se volete fare della speculazione ad ogni modo fate come volete questo è il grafico di POV contro USDT è possibile acquistarlo sia al lato decentralizzato magari su Uniswap piuttosto che su Shibarium piuttosto che in maniera molto semplice su Bitget vi ricordo che se volete utilizzare Bitget avete il referral link con il 20% di sconto per sempre utilizzando appunto questo codice ragazzi naturalmente sappiate che vi può far guadagnare un sacco di soldi vista la market cap così bassa sappiate anche che vi può far tranquillamente perdere tutto insomma con la scammasse, con la ci fossero problemi insomma sapete bene di cosa stiamo parlando spero ragazzi detto questo un bel like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale se non siete registrati noi ci vediamo al prossimo video del Marchese del Cripto